Maisha, sai che ti dico? Tu sei proprio come la mia mamma. Ti ringrazio ancora, Masai. Senti, hai già di nuovo quel pianoforte. Il suono è puro e dolcissimo. Mi piacerebbe sapere chi è la persona che sta suonando. Bello. È un pezzo conosciuto, la suonata al chiaro di luna di Beethoven. Sarei felice se la Terra fosse come questo pianeta.